E' finalmente arrivata la web tv del progetto ICS TV Associazioni Solidali, una piattaforma online in cui verranno trasmessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 i contenuti proposti dall'associazione affiliate ICS Torino. I temi trattati sono i più vari, come quello dell'ambiente, della cultura, dai documentari cortometraggi, passando all'intrattenimento e l'educazione dei più piccoli e non. Troveremo inoltre ampi spazi musicali, con videoclip, spettacoli, concerti e tanto altro, e momenti dedicati al benessere fisico con lezioni e dimostrazioni in ambito sportivo. Per accedere alla piattaforma non ci resterà che aprire il nostro browser preferito e digitare l'indirizzo www.icstvtorino.com. Aperto il sito, troveremo al centro il player dei contenuti, sotto il quale potremo lasciare dei commenti a riguardo nell'apposito riquadro. Nella pagina Guida TV troveremo il calendario settimanale con tutti i palinsesti giornalieri. Nella sezione denominata Chi siamo? Ci sarà la descrizione del progetto, i protagonisti che ne fanno parte. Infine, la sezione dei contatti per comunicare direttamente con la TV. Non ci resta dunque che metterci comodi e goderci lo spettacolo. Grazie.